Lago di Giacopiane sempre più asciutto, mercoledì scatta l'ultima fase di svuotamento con il trasferimento dei pesci a Pianzapeio, in campo i tecnici di Tirreno Power e decine di volontari della Fima Chiavari. Fatto brillare questa mattina a Levi un ordigno bellico della seconda guerra mondiale, il ritrovamento risale al 4 di luglio, anche il sindaco ha dovuto presidiare il sito, ogni giorno sino ad oggi un incubo ha spiegato. Peste e suina, il parco dell'Aveto rassicura, nessuna attività outdoor viene limitata, in zona 2 occorre semplicemente cambiare le scarpe da trekking e lavarle prima di un'altra gita. Si prospetta una nuova stagione di grande lavoro alla Ilex e quanto emerso dal vertice azienda sindacati, possibili anche alcune assunzioni, intanto giorni decisivi per il futuro della IML di Casarza Ligure. A Lisbona per incontrare tanti volti della chiesa viva e per stare con Gesù, unica vera fonte di felicità, è l'augurio del Vescovo Giampio alle ragazze e ai ragazzi che stanno per partire dalla diocesi di Chiavari per la GMG. L'abbraccio del quartiere alla sua patrona, festa di Sant'Anna a Rapallo, il Vescovo ha benedetto la statua all'esterno della chiesa, un'occasione per riscoprire quell'abbraccio che caratterizza tutta la vita del quartiere. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. In apertura andiamo nell'entroterra dove entrano nel vivo le fasi di svuotamento del lago di Giacopiane. L'area, gestita da Tireno Power, si sta attrezzando per un evento che non si ripeteva dal 1999. Oltre ai tecnici, da giorni stanno lavorando in zona 30 volontari della FIMA Chiavari, un'operazione delicata che prevede attività particolari per la salvaguardia dei pesci. Sentiamo. Giacopiane si avvia verso il completo svuotamento. In queste ore il rilascio d'acqua è costante e proseguirà anche di notte, sino ai primi giorni della prossima settimana. Ormai la parte di lago a monte della diga è asciutta. I lavori sono necessari per legge. Dobbiamo andare a fare delle ispezioni sulla valvola diciamo di monte, dello scarico di fondo per verificare le sue condizioni e poi procedere con le manutenzioni necessarie. È in vigore il divieto di pesca nell'invaso che proseguirà sino all'autunno. A Pian Sapeio, nel lago inferiore, il divieto temporaneo di pesca scatta martedì 1 agosto e sarà in vigore fino al 9. Lunedì 31 luglio poi non sarà più possibile raggiungere i laghi. L'ordinanza del comune di Borzonasca vieta il transito veicolare da Bocca Moa a Giacopiane per 5 giorni. Esclusi dal divieto i mezzi autorizzati di soccorso e delle forze dell'ordine. Perché questa operazione avviene in estate? Perché noi andiamo a lavorare in un alvio, in una diga, quindi non possiamo andare a lavorare quando siamo a rischio temporali o grandi portate nei fiumi. Intanto per la sicurezza totale di tutte le persone. Mercoledì lo svuotamento di Giacopiane sarà completo. È quasi finito il lungo scivolo di legno che accompagnerà i pesci nel lago sottostante. Mancano poche tavole da inchiodare, la copertura con telo plastico per evitare escoriazione ai pesci e l'impermeabilizzazione dell'intero percorso. Abbiamo cercato di fare con l'esperienza passata uno scivolo con una pendenza un po' minore per riuscire a gestire meglio questi pesci che allora si arrenavano in certe pozze e quindi un piccolo problema. Abbiamo cercato di capire più possibile dai vecchi il segreto del rilascio. A diga svuotata bisognerà attendere che asciughi il fango sul fondale e che venga costruita una pista interna per scendere con i mezzi. I tempi dei lavori sono incerti. Ci siamo presi tre mesi. Speriamo prima però non essendoci perché abbiamo fatto anche dei sopralluoghi con i sommozzatori alcuni anni fa che non hanno dato l'esito sperato quindi dobbiamo andare a vedere proprio cosa succede lì perché è un punto che se no non si può andare a vedere. Si è concluso un incubo parole del sindaco di Leivi Vittorio Centanaro dopo che gli artificieri questa mattina hanno fatto brillare un ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovata da un cittadino in località La Pozza. Ci sono voluti però 24 giorni di attese di controlli anche da parte del primo cittadino prima delle operazioni odierne. Ai nostri microfoni ha raccontato questa particolare avventura. Il 4 di luglio martedì mattina mi viene segnalato dalla stazione Carabinieri di Carasco che è stato ritrovato un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale in territorio comune di Leivi. In quale posto esattamente? In località La Pozza vicino alla zona di Cogozzale in comune di Leivi è stato trovato un ordigno che era un proiettile di cannone da parte di un cittadino che ha segnalato il fatto ai Carabinieri di Carasco. A quel punto che cosa è scattato per voi? Scattato un'ordinanza immediatamente dalla prefettura che imponeva al sottoscritto di presidiare la zona fin tanto che non fosse stata fatta l'operazione di bonifica da parte degli artificieri. Questo che cosa significa per un'attività come la sua che è un sindaco di un piccolo comune ma poteva rischiare grosso e così? Sì rischiavo sulla mia pelle perché nel caso in cui qualche d'uno mosso da curiosità avesse manomesso o asportato questo ordigno io subivo un processo per direttissima senza possibilità difendermi in seguito aver disatteso un'ordinanza del prefetto. Come ci siete riusciti? Devo ringraziare in primis Gianni Solari dalla protezione civile di Leivi, divisione Croceverde, il signor Marco Allegro responsabile della protezione civile di San Colombano che ha collaborato alla Cremente, il mio vigile Valeriano Solari. Siamo andati ripetutamente tutti i giorni a più riprese tra l'altro con condizioni climatiche particolarmente difficili percorrendo un sentiero di un chilometro e quindi essendo sul territorio, sul posto costantemente per cercare di non incorrere in quelle problematiche che dicevo poc'anzi. Sono passati 24 giorni che sono un'eternità per una problematica di questo tipo. Stamattina è stato fatto brillare, cosa è accaduto? Ho individuato l'ordigno, hanno posizionato le persone presenti a distanza di sicurezza e attraverso le cariche di tritola hanno fatto brillare l'ordigno stesso. Una fortissima deflagrazione che si è udita a parecchi chilometri di distanza è stato un momento particolarmente importante perché è stato per me una liberazione. Tra domani sera e sabato mattina Anas rimuoverà il senso unico alternato lungo la provinciale 566 tra San Pietrovare e Carrodano al termine dei lavori di asfaltatura e dunque con la riapertura totale del tratto. È uno degli interventi necessari per procedere a settembre alla chiusura del tunnel Madonna della Guardia sulla statale 523 dei Centrocroci tra Castiglione Chiavarese e Maisana. Si chiuderanno invece entro il 18 agosto i lavori di pavimentazione e ripristino della segnalitica iniziati il lunedì scorso sulla provinciale 40 tra l'imbocco Lato Castiglione e il santuario di Velva. Oltre ad eseguire i lavori sulla provinciale 40 di competenza della città metropolitana di Genova Anas provvederà al rifacimento della pavimentazione anche sul tratto di strada di competenza del comune di Maisana. Cambiamo argomento, il frequente ritrovamento di cinghiali infetti dalla peste suina preoccupa anche turisti ed escursionisti interessati in questo periodo a visitare il parco dell'Aveto. In particolare c'è una dilagante preoccupazione in riferimento a limitazioni di vieti. Interviene dunque l'ente parco che dice nessun timore, occorre solo osservare semplici regole di biosicurezza, alcune peraltro già esistenti. Sentiamo. Posso fare un'escursione o un'altra attività outdoor nel parco dell'Aveto se incombe la peste suina? Sono le domande che tanti, liguri e non solo, si stanno facendo soprattutto dopo il ritrovamento di carcasse di cinghiali infette nell'entroterra del Levante e il passaggio di alcuni comuni in zona 2, quella con più restrizioni. Certo che si può venire nel parco, risponde l'ente, serve solo rispettare alcuni semplici regole. Intanto in Val Graveglia ad oggi la malattia non c'è, non ci sono problemi. Mezzanico e Santo Stefano d'Aveto sono in zona 1, qui l'attenzione riguarda gli allevamenti di suini. Dunque cosa può fare l'escursionista in zona 1? Può fare tutto quello che vuole, può andare per funghi, può andare in giro nei boschi e può fare normalmente tutte le attività outdoor. Borzo Rasca e Rezzo Aglio sono in zona 2, l'attenzione più alta ma non invalicabile. Qui basta mettere in campo alcune azioni di biosicurezza, una in particolare, in fondo, l'unica vera novità. Prima della gita cambiarsi le calzature, al time della gita cambiarle di nuovo, riporle bene, dopodiché a casa magari lavarle, sciacquarle, disinfettarle per la prossima gita. In maniera da non diffondere da aree dove il morbo è presente, in successive camminate, in aree dove il morbo invece non è ancora arrivato e quindi c'è il rischio che possa essere diffuso proprio dalla nostra attività escursionistica. Cresta ricorda che alcuni divieti della zona 2, come non uscire dai sentieri, non tenere liberi i cani e non campeggiare o bivaccare, sono già presenti sul territorio del parco. Per la sicurezza personale e per evitare smarrimenti, problemi, ricerche poi col soccorso alpino e incidenti, sono tutte regole che andrebbero già seguite normalmente e che in un parco sono già applicate. Di qui dunque le ultime rassicurazioni del direttore. Niente di diverso di quello che negli ultimi due anni sta succedendo, per esempio, al parco dell'Antola e al parco del Begua, dove si convive tranquillamente con questa situazione, semplicemente invitando al rispetto di queste elementari norme di biosicurezza. Cimice asiatica alvia in Liguria questa mattina i primi lanci di insetti autoctoni per la lotta biologica. La sperimentazione che è portata avanti da Coldiretti è avvenuta in tutte le province ed è consistita nel lancio di due predatori naturali delle cimici che, lo ricordiamo, sono dannose per le coltivazioni agricole e soprattutto per i frutteti. I due insetti antagonisti non sono pericolosi per l'uomo e non causano danni alle api o agli altri animali. Nel Tigullo il lancio è avvenuto nell'agriturismo le Olivette di Cardini a Casarza Ligure. Il Comune di Lavagna ha pubblicato la procedura di project financing per la gestione del porto, la cui concessione, lo ricordiamo, scade nell'aprile del 2024 e il cui rinnovo, si legge nella delibera di giunta, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio. Il Comune ha posto però alcune condizioni. Primo, il futuro concessionario dovrà accollarsi i debiti che il Comune ha maturato nei confronti dell'attuale gestore. Poi il concessionario dovrà riservare al Comune di Lavagna un determinato numero di posti barca. Inoltre dovrà presentare un progetto di fattibilità per la riqualificazione urbana della sovrapiastra. L'amministrazione chiede infine che venga mantenuta la continuità degli esercizi e delle attività commerciali che sono già presenti in porto. Ora il lavoro. Si prospetta una stagione positiva alla Ilex di Chiavari e quanto è emerso dall'ultimo vertice tra azienda e sindacati. Possibili anche alcune assunzioni. Intanto sono giorni decisivi anche per il futuro della IML di Casalza Ligure. Ne abbiamo parlato con Marco Longinotti di Cisle. Sentiamo. Incontro sulla situazione aziendale alla Ilex di Chiavari. Come è andata? Ci siamo incontrati con l'azienda che ha illustrato il piano per il prossimo anno. Si sono stati illustrati carichi di lavoro per il 2023-2024. Carichi di lavoro che se così restano danno delle discrete garanzie. Ci potrebbe essere il dubbio legato al reperimento delle materie prime ma al momento questo problema non c'è quindi se rimangono queste situazioni è stata garantita anche qualche assunzione che fa ben sperare per il proseguimento di questa azienda sul territorio che comunque dà delle garanzie. In questi ultimi giorni e settimane c'è stata una piccola diatriba legata al caldo e al condizionamento all'interno della fabbrica. Si è risolta? C'è stata qualche diatriba tra sindacato e azienda come è normale che sia in una discussione che è comunque rimasta all'interno di canoni civilissimi. Si è risolta mettendo in piedi una commissione paritetica azienda-sindacato composta dalla responsabile per la sicurezza dell'azienda e dai responsabili per la sicurezza dei lavoratori che avranno il compito di monitorare e cercare di risolvere questa ed altre problematiche che dovrebbero sorgere. Già questo pomeriggio credo questa commissione si riunirà per affrontare il problema. IML invece ci spostiamo a Casarza Ligure e qui il quadro com'è? Stiamo aspettando l'ok del giudice per poter dare l'incarico alla New Co che intende affittare per un anno l'azienda. È stato affidato un incarico a tre persone da parte del curatore fallimentare per poter rimettere in piedi l'azienda e prepararsi per poter partire con l'attività nel momento in cui il giudice darà l'ok. Tempi? Ma ormai credo che sia questione di giorni. Sul tema delle temperature elevate in azienda a quest'oggi è intervenuto anche l'amministratore delegato di Alex Italy Paolo Paiardi. Apprezziamo l'apertura che c'è stata, ha prevalso il buonsenso, ha detto, valuteremo insieme le condizioni e se emergeranno delle necessità saremo disponibili a modificare i criteri e la pianificazione dell'impianto di condizionamento. Sui carichi di lavoro invece Paolo Paiardi ha così commentato, se dopo le difficoltà ora parliamo di assunzioni è grazie all'impegno di tutti. Ilex non è un'entità astratta ma l'insieme delle persone che ci lavorano. Cronaca nasconde una storia a lieto fine, l'incendio che questa mattina ha coinvolto una vettura in A12 tra Chiavari e Rapallo, sul posto i soccorritori e la polizia stradale. Il conducente della vettura ha fatto in tempo ad uscire dal mezzo, l'incendio ha causato sei chilometri di coda e tra le persone in viaggio c'era un signore di Cogorno che aveva un importante e delicato intervento di cataratta all'ospedale di Rapallo programmato per le 8.30 del mattino. Nonostante i disagi, la strada bloccata ma anche le operazioni di controllo del traffico, la polizia stradale venuta a conoscenza delle necessità dell'uomo ha fatto comunque arrivare sul posto una seconda pattuglia che ha scortato il paziente di Cogorno all'uscita del casello autostradale di Rapallo, così per consentirli di non perdere l'appuntamento. Ancora cronaca, disagi al traffico veicolare ma anche danni ai residenti e ai commercianti. Sono le conseguenze di un blackout che si è protratto per diverse ore e che ha coinvolto le zone di via San Ruffino a Chiavari e le aree vicine. È accaduto martedì intorno alle 16, la corrente mancata improvvisamente in una vasta area del quartiere di San Pierdicanne-Rostio, dove si trovano anche diverse attività commerciali ed è stata ripristinata soltanto poco prima della mezzanotte. Mercoledì poi gli interventi sono proseguiti con alcuni problemi sul traffico per consentire agli operai di sostituire un cavo dell'alta tensione. Le operazioni sono andate poi avanti fino alla tarda serata di ieri quando la viabilità è ripresa regolarmente. L'inconveniente ha causato danni ai residenti e ai commercianti, dicevamo molti esercizi hanno chiuso anzitempo la loro attività, perdite ingenti anche per i prodotti alimentari conservati nei frigoriferi, che sono andati a male e quindi non più vendibili. Ilex inoltre fa sapere che l'azienda ha dovuto interrompere il secondo turno e cancellare il terzo. La produzione dovrà ora essere ripianificata per recuperare il tempo perduto. In ogni caso, dichiara il comandante della Polizia Municipale Chiavarese, Fabio Lanata, il blackout ha recato disagio a circa 8.000 persone. Adesso l'informazione religiosa. A Lisbona è già clima di festa per l'arrivo dei ragazzi che in vista della giornata mondiale della gioventù stanno vivendo i gemellaggi con le diocesi portoghesi. Sono una cinquantina quelli già partiti da Chiavari e da Genova. Per tutti gli altri, quasi mille persone tra le due diocesi, l'avventura inizia sabato. Per loro c'è un messaggio da parte del Vescovo Giampio De Vasini. Cari ragazzi e ragazze che state per partire per la GMG di Lisbona, intanto buon viaggio. certamente vivrete, anzi vivremo visto che ci vengo anch'io, una esperienza che lascerà nelle nostre vite un segno importante. Avremo occasione di incontrare ragazzi e ragazze di altre regioni d'Italia, di altri paesi del mondo. Questo aprirà i nostri orizzonti e in particolare credo ci farà conoscere modi diversi di essere l'unica Chiesa di Gesù. Staremo insieme nella gioia, staremo insieme tra di noi, staremo insieme con Gesù e questo rafforzerà la nostra fede in Lui che, se ci pensate bene, è l'unica realtà capace di donarci speranza, di donare speranza alla nostra vita di ogni giorno. Buon viaggio e arrivederci all'Isbona. Dicevamo dunque che tutte le diocesi liguri si stanno preparando alla GMG e sabato 29 luglio alle 21.30 nella chiesa di San Giuseppe a Savona il Vescovo Marino presiederà una messa per i ragazzi in partenza per Lisbona. Si tratta di 90 pellegrini di età compresa tra i 14 e i 30 anni che lunedì 31 raggiungeranno il Portogallo. Sarà una forte esperienza di chiesa, commenta don Andrea Camoirano, responsabile diocesano del servizio per la pastorale giovanile, che aggiunge ci aiuterà a creare un gruppo affiatato che nei prossimi anni farà da traino ad altri gruppi nelle attività diocesane. Ora veniamo in diocesi a Chiavari perché il Vescovo ha benedetto la nuova statua davanti alla chiesa di Sant'Anna a Rapallo ieri sera al termine della processione in occasione della festa patronale. Un'occasione per riscoprire quell'abbraccio concretamente rappresentato dall'artista Leonardo Lustig nell'immagine che raffigura Sant'Anna con la figlia Maria. Vediamo. Nell'immagine dell'abbraccio di Sant'Anna e di Maria Leonardo Lustig ha saputo descrivere qualcosa che vale per tutti, la potenza di un gesto umano che dice eternità, accoglienza, cura, affetto e dice una vita che non presume di bastare a se stessa. Lo ha sottolineato il Vescovo nell'impartire la benedizione all'immagine al termine della processione per la festa di Sant'Anna a Rapallo. Sono certo che chiunque passerà davanti a questa effigie non potrà non rivolgere ad essa il suo sguardo e chissà magari questo sguardo si aprirà al mistero, si aprirà alla preghiera, si aprirà all'abbraccio del padre che è nei cieli. Perché Sant'Anna è un abbraccio, è un quartiere che ospita tante persone in un numero scarso di metri quadrati, è un quartiere dalla composizione sociologica multiforme dove prestano il loro servizio gratuito tante persone e queste persone hanno preso parte alla processione perché l'omaggio alla patrona fosse in sé nuovamente un abbraccio. C'erano la comunità, le famiglie, le confraternite, i volontari del soccorso, il sestiere Cappelletta, il centro amici di Sant'Anna oltre alla banda e questo abbraccio è diventato così visibile e concreto. La sosta durante il percorso è stata l'occasione per l'omaggio pirotecnico. La parola di Gesù è l'unica che può cambiare la vita, ha sottolineato il Vescovo al termine della processione perché porta a maturazione le potenzialità di bene presenti in ogni uomo. La parola però va accolta, meditata, messa in pratica, ha aggiunto Monsignor Devasini. L'accoglienza piena è quando si è fedeli alla parola ascoltata, quando si è disposti per restare fedeli alla parola ascoltata ad andare controcorrente. La parola, se non è attestata da una testimonianza credibile e gioiosa, resta sterile perché è un dono e come ogni dono soggiaccia ad una regola ferrea, o è ridonato o muore e la parola la si ridona attraverso la testimonianza. Prima di passare agli appuntamenti vediamo alcuni aggiornamenti di cronaca. Intanto sul sito dell'ANSA si parla delle indagini relative al ragazzo egiziano di 19 anni il cui cadavere è stato trovato senza mani e testa nel mare davanti a Santa Margherita Ligure, tra Chiavari e Santa Margherita Ligure. Ebbene è stato colpito non soltanto al cuore ma anche al fegato e all'addome. Questi sono i nuovi particolari che emergono dall'autopsia eseguita dal medico legale Davide Bedocchi. Invece a Genova ha rubato l'incasso di un locale, poi ha cercato di scappare, così gli agenti della polizia hanno arrestato per furto aggravato un 34enne in viale Brigate Bisagno. Richiamati dalle urla di una persona, i poliziotti hanno visto l'uomo mentre scappava verso Piazza della Vittoria. In un portavasi aveva appena gettato sette mazzi di banconote per un totale di 5.000 euro. L'uomo è stato riconosciuto dai dipendenti di un altro locale. Poco prima infatti aveva approfittato di un momento di assenza della cassiera, aveva forzato la porta dell'ufficio con un cavatappi e aveva portato via l'incasso. Infine un aggiornamento di viabilità, attenzione, che si mette in viaggio verso Moneglia perché c'è una nuova chiusura delle gallerie che collegano Sesti Levante e Moneglia. Il divieto di transito riguarda una notte soltanto tra questa notte, quindi tra giovedì e venerdì, dalle 2 alle 4. L'ordinanza è necessaria per poter garantire dei lavori di monitoraggio delle stazioni di rilevamento della staticità del passaggio all'interno del tunnel. Ora vediamo gli appuntamenti che sono in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per venerdì 28 luglio. Alle 10.30 nella Biblioteca Fasce Rossi a Sestri Levante, speciale lettura per bambini e famiglie, il tema sarà l'archeologia. Torna a Chiavari la festa del Perù e dei Liguri nel mondo. Alle 10.30 visita guidata gratuita ai palazzi chiavaresi, storiche sedi dei consolati sudamericani. Alle 16 visita al Museo del Risorgimento e alla Quadreria della Società Economica. Alle 21 in Piazza dell'Orto, serata dedicata all'emigrazione nelle Americhe. Varese Ligure ospita il Valdivara Book Festival nel cuore del Borgo Rotondo a partire dalle 16. Don Lorini, Una vita per i giovani e lo sport è il titolo del convegno delle 16.30 nella Sala Rossa di Savona. Ne parleranno Roberto Pizzorno e Patrizia Giallombardo. Alle 18 nel giardino della chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo, la professoressa di Assiriologia all'Università di Messina, annunziata a Rositani, parlerà della letteratura sapienziale nell'antica Mesopotamia. Rassegna Cammin di Fiaba a Portofino. Si concludono i laboratori teatrali dei bambini. L'inizio dello spettacolo alle 20.30. Una serata tra le stelle con l'associazione Il Sestante. L'osservazione degli astri si terrà alle 22.30 al Parco Mandela. Festa della parrocchia di Ribasso a Chiavari in piazza Sanfront. Alle 19 apriranno gli stand gastronomici. Alle 21 quiz a squadre Il Cervellone. A Lavagna prosegue Festival Art. Alle 21 in piazza Marconi ci sono le semifinali del Basking Contest a suonare artisti di strada. Protagonista a Rapallo Giordano Bruno Guerri, storico, saggista e giornalista. L'incontro inizierà alle 21 a Villa Tiguglio. Si accende l'estate di Cogorno. Alle 21 in piazza Aldomoro si terrà la festa delle Fisarmoniche. Nella sede della Croce Rossa invece c'è la sagra organizzata dai volontari. Serata di Balloliscio a Zoagli. Ad aglietare i presenti l'orchestra I Caravell. L'inizio alle 21 in piazza 27 dicembre. Alle 21 e 15 all'oratorio di Sant'Erasmo a Sori concerto al pianoforte di Marcello Rolf. L'ingresso è libero. Dal cabaret all'amore perduto un po' di scuola genovese. Così alle 21 e 15 all'arena Conchiglia di Sestri Levante show del comico Andrea Di Marco. E prosegue il 25esimo festival organistico internazionale. Alle 21 e 15 nella Basilica di San Siro a Sanremo si esibirà l'artista emergente francese Thomas Hospital. Il festival di Vallecristi propone C'era una volta Rapallo alle 21 e 30 al monastero. Saranno proiettate foto e cartoline antiche commentate da Alessandra Rotta e Francesco Ferretto. Serata Pop Rock al porticciolo di Genova Nervi. Si parte alle 21 e 30 con il gruppo Gli Amari a cura dell'Accademia del Chiostro in collaborazione con il CIV Nervi Mare. E infine alle 21 e 30 escursione serale lungo le sponde del fiume Entella con il ritrovo lungo la sponda sinistra. Per partecipare occorre scrivere a tiguglio.chiocciola.lipu.it Bene tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ci ritroviamo domattina alle 7.30 con la rassegna stampa. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito e sulla nostra pagina YouTube. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.